Cantiere sul Tartano, traffico in tilt, droni in agricoltura anche in Valtellina, Tirano, più che all'area interna, pensa all'Interreg. Sulle orme di Don Rinaldi dall'Argentina al Centro Aduano e come sempre lo sport dell'Agostino Bronzo in Coppa del Mondo. Questo ed altro nel notiziario di TSN, benvenuti. La viabilità in apertura di questa edizione del nostro telegiornale L'apertura di un cantiere mobile sulla Statale 38 questo pomeriggio all'altezza del ponte del Tartano ha causato lunghe code in bassa valle da Talamona ad Ardenno. Per procedere ai lavori infatti è stato necessario chiudere una corsia disponendo nel tratto il senso unico alternato con semaforo. Ed ora parliamo delle nuove e ultime frontiere della tecnologia che vedono i droni sempre più spesso impiegati anche in agricoltura, presto anche in Valtellina. Vediamo. La chiamano agricoltura di precisione. È fatta di droni, sensori ad altissima precisione, mappe in 3D che mostrano lo stato di salute di un campo con un margine di errore di pochi centimetri. I piccoli velivoli sono già utilizzati per diverse coltivazioni italiane, in particolare legate al mais, ma presto si vedranno volare anche sopra le vigne e i meleti della provincia di Sondrio, come ci conferma Graziano Murada, direttore del Centro di Studi Superiori Fondazione Foianini di Sondrio. Abbiamo inserito l'acquisto del drone e il suo utilizzo in una serie di progetti insieme a partner universitari che abbiamo presentato in Regione Lombardia. In ogni caso, è intenzione della Fondazione Foianini, entro fine anni, di dotarsi di un drone, anche per rispondere alle esigenze dei comuni, in quanto abbiamo ricevuto l'incarico di reggere il progetto della Banca della Terra che riguarda il rilevamento di tutti quelli che sono gli incolti attualmente presenti in provincia di Sondrio. Un tecnico del Centro Studi sta già prendendo il brevetto per uso professionale del drone, ma in concreto in che modo verrebbe utilizzato in provincia di Sondrio? La fase di avvio e di sperimentazione all'utilizzo non potrà che essere quello di rilevamento di dati topografici, cartografici e di mappatura del territorio, ma sicuramente nella nostra realtà l'utilizzo è migliore, quello che potrà dare sicuramente frutti migliori è quello di poter applicare al drone delle app in grado di monitorare lo stato di salute dei vigneti e dei fruttetti e perché no di rilevarne eventualmente anche le malattie e le fisiopatie presenti. Come in altri territori, il drone potrà essere utilizzato per rilevare i danni causati da parassiti o la presenza di insetti, ma lo scopo del suo utilizzo in Valtellina potrà avere anche altre finalità. Dovrà anche fare una serie di valutazioni, ad esempio sto pensando alla possibilità di monitorare lo stato di maturazione di mele e di uva attraverso l'intensità colorante che le app dotate di sensori ottici potrebbero in qualche modo aiutarci a dare queste risposte. Nel futuro dell'agricoltura valtellinese anche la genomica. Siamo alla vigilia della rivoluzione agroalimentare e quando parlo di genomica non parlo assolutamente di OGM ma con la genomica vengono mutuate quelle che sono le tecniche già in uso e in utilizzo in campo umano per abbreviare e accorciare i tempi di selezione genetica. Con questo sistema si aprirà le porte a produzioni completamente sostenibili, sane e soprattutto si aprirà anche la porta della nutrigenetica cioè l'alimentazione personalizzata di cui sicuramente molti soggetti hanno bisogno. Quindi la tipicità abbinata alla genotipicità e alla genomica non potrà altro che dare ulteriore valore aggiunto alla produzione tipica locale. Umberto Eco, le donne al voto nel 1946, il PIL, il valore del paesaggio, il rapporto tra padre e figlio, l'uomo e l'avventura nello spazio, il significato della parola confine. Queste le tracce che il Ministero dell'Istruzione ha scelto per la prima prova degli esami di maturità affrontati anche da 1350 studenti della provincia. Secondo i primi riscontri, la maggior parte degli studenti ha scelto la traccia del saggio storico-politico relativo al valore del paesaggio, soprattutto negli istituti tecnici. Tra i liceali ha prevalso il rapporto padre-figlio mentre il tema di ordine generale sui significati del confine è stato svolto nella maggior parte degli istituti professionali. Domani la seconda prova diversa per ogni endirizzo. Restiamo in tema dispersione scolastica. Terminata la scuola per l'ufficio scolastico territoriale è tempo di bilanci. Purtroppo gli esiti non sono positivi a preoccupare l'alto tasso di abbandono scolastico, tematica che stamane è stata al centro del vertice tenutosi in prefettura con i principali funzionari scolastici e rappresentanze sindacali. Per affrontare questa vera e propria piaga si è deciso di rafforzare l'alternanza scuola-lavoro coinvolgendo anche altre associazioni di categoria tra cui Unione Commercianti, Confindustria, Coldiretti e Camera di Commercio oltre che realizzare un accordo con il mondo imprenditoriale. Candidata a nuova area interna, Tirano vede con più favore l'ultimo progetto Interreg presentato. Vediamo. Dopo l'inserimento nel 2014 di Alta Valtellina e Valchiavenna nella strategia nazionale aree interne che prevede programmi per gestire unitariamente i servizi pubblici a disposizione della comunità, Regione Lombardia ha attivato una procedura per la selezione di due nuove zone da inserire nel bando chiuso lo scorso 20 maggio. Otto le candidature pervenute, spiega il sottosegretario regionale con delega alla montagna Ugo Parolo, tra queste anche una proveniente dal mandamento di Tirano. Gli uffici della Giunta regionale, prosegue il sottosegretario, hanno valutato le candidature dando loro punteggi per il disagio locale, valutando la capacità dei comuni candidati di aggregare servizi e di proporre strategie di sviluppo, una sorta di classifica che vede però proprio il centro aduano penultimo nella graduatoria, dove in prima e seconda posizione ci sono rispettivamente l'Appennino Lombardo, Alto oltre Poppavese e l'Alto Lago di Como e Valli dell'Ario. Ora la documentazione è al vaglio del Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un'integrazione istruttoria nazionale che dovrà portare entro agosto la Giunta regionale a selezionare le due nuove aree interne lombarde. Non abbiamo aspettative in merito alla candidatura commenta il sindaco Franco Spada mentre guardiamo in modo più favorevole al nuovo progetto Interreg presentato nella giornata di ieri, martedì 21 giugno che vedrebbe il municipio nuovamente in prima fila per condividere idee e iniziative in particolare con la vicina Valposchiavo nel segno dello sviluppo turistico del territorio. Gli alpeggi ancora al centro delle priorità da risolvere nel nostro territorio. Questa mattina in Prefettura si è svolto un incontro per poter esaminare la bozza di protocollo concernente la tutela e la valorizzazione delle malghe presenti in provincia. Sono stati inoltre analizzati gli aspetti relativi i bandi per poter supportare i comuni nella predisposizione dei bandi stessi. Il prospetto sarà trasmesso a provincia, comunità montane, comuni interessati e ERSAF per le valutazioni di competenza. Ci spostiamo in Altavalle. Bormio è stata eletta dal portale di turismo Paesi Online come una delle mete migliori per gli amanti della montagna. La nomina di Bormio tra le località top rated per la categoria montagna è stata decisa sulla base di un sistema di calcolo che valuta la reputazione web di una località. Il giudizio è legato sia a caratteristiche proprie del territorio, sia ai commenti e alle opinioni degli utenti del sito. Ed ora torniamo ancora a parlare di Tirano ma per ben altri motivi. Infatti di recente c'è stata una importante e bella visita da parte di una piccola delegazione proveniente dall'Argentina. Vediamo. Una piccola delegazione proveniente dall'Argentina è arrivata nei giorni scorsi in visita a Madonna di Tirano ma la presenza in paese del signor Raul Malisani e della signora Maria Eva Rodriguez rappresentanti del comune di Galvez nella provincia di Santa Fe non è affatto casuale. Infatti, Galvez è la città dove padre Domenico Rinaldi nato nel 1855 nella frazione di Cologna a Tirano ha vissuto e si è adoperato per il bene della comunità per 35 anni lasciando un segno indelebile del suo operato nella chiesa di Santa Margherita de Escossia. Molto amato ancora oggi, gli abitanti proprio quest'anno dedicheranno una statua in onore del prete che venne ordinato salesiano in Argentina nel 1886 dove arrivò come missionario di Don Bosco tre anni prima restando comunque sempre molto legato alla sua terra natia cosa che lo spinse una volta arrivato a Galvez nel 1893 a costruire una chiesa che volle il più possibile somigliante alla Basilica della Madonna di Tirano. Appositamente per la sua realizzazione una squadra di progettisti venne a inizio secolo dall'America Latina a Tirano i lavori durarono 28 anni ma alla fine Galvez ebbe la sua basilica ispirata a quella baltellinese. Questa è la storia che ha spinto i due ospiti ad arrivare in provincia dove hanno potuto incontrare una delle discendenti di padre Rinaldi la signora Enrica Gobetti insieme hanno poi visitato a Colonia la contrada Gilera dove ancora si trova la vecchia casa di famiglia. Nelle visite la coppia è stata accompagnata anche dal rettore Don Giampiero Franzi e dall'assessore alla cultura comunale Sonia Bombardieri accolta poi dal sindaco Franco Spada. Il signor Malisani non ha mancato di raccontare molti aneddoti della vita di Don Rinaldi celebrava la prima messa in spagnolo e poi la messa grande in dialetto piemontese lombardo e se mancava anche solo uno dei contadini che veniva dai dintorni aspettava il suo arrivo prima di cominciare. In ricordo della visita a Tirano verrà realizzato un video che sarà presentato a novembre a Galvez in occasione della celebrazione dei 130 anni della nascita della città mentre il sindaco della cittadina argentina Mario Ariel Fissore e il parroco Don Nicola Suret hanno già inviato un videomessaggio con l'augurio di un gemellaggio fra le due città ricambiato con entusiasmo dall'amministrazione valtellinese. Pesche ma non solo tutti i tipi di frutta e di colori nella dieta anticaldo questo fine settimana saranno lanciati dai farmers market di Campagna Amica in Lombardia per affrontare le temperature sopra i 30 gradi e per snellire il girovita. A Sondrio l'appuntamento è per venerdì 24 giugno nel mercato di piazza Cavour dalle 8 alle 13 e 30 con mirtilli e lamponi della Valtellina prodotti genuini e a chilometri zero non a caso il nostro territorio pur essendo molto piccolo concentra il 14% dei frutteti di tutta la regione. Ed ora parliamo di apprendimento ad hoc con talenti fra le nuvole vediamo il servizio di Elisa Compagnoni. A volte basta davvero poco per poter apprendere ed imparare meglio un semplice cambio di approccio a quello che spesso viene definito faticoso studio e questa è la modalità dotata dalla cooperativa talenti fra le nuvole preseduta da Davide Ferlazzi e Giuliano Pugnani che quest'anno ha scelto la capanna del bosco in località San Bernardo nel comune di Ponte Valtellina per far trascorrere una settimana speciale a 13 ragazzini dai 9 agli 11 anni con bisogni educativi particolari. Sì, abbiamo preparato per loro delle sfide di apprendimento nella natura il tema scelto è proprio quello della protezione della natura e grazie alla collaborazione della comunità montana della protezione civile antincendio boschile delle guardie ecologiche volontarie proporremo loro un apprendimento di tipo pratico sul quale poi lavoreranno anche con strumenti didattici specifici quali mappe, schemi, presentazioni fatte a computer, foto, video per superare quella che per molti di loro nel quotidiano è una difficile sfida di apprendimento. Oggi per loro una bella sorpresa una mattinata nel bosco dove poter prendere parte di un'esercitazione di antincendio boschivo sotto l'attenta supervisione dei responsabili dell'area antincendio boschivo e protezione civile della comunità montana una bella lezione per conoscere e rispettare l'ambiente montano e questa è solo una delle svariate attività che il camp propone che vanno ben oltre la pure semplice didattica. Speriamo che per loro sia anche qualcosa di più di un progetto educativo estivo ma un'occasione di vivere assieme per confrontarsi confrontarsi anche sui temi della difficoltà sui temi della modalità che ognuno di loro ha messo in campo per superare queste difficoltà è molto importante che si confrontino tra pari noi abbiamo organizzato tutta una serie di attività e anche la vita di tutti i giorni è fatta è strutturata è seguita da nostri colleghi da noi coordinati per far sì che si diano tra di loro il giusto consiglio tratteggino quella che è una realtà possibile perché non è solo il condividere la fatica che vivono a scuola o che hanno vissuto in passato ma anche il come hanno superato queste fatiche e poterlo fare tra pari ma mediato da adulti specializzati di solito è un grande valore molto spesso si dimentica che siamo noi a dover cambiare atteggiamento con chi ha difficoltà di apprendimento i quali spesso e volentieri si rivelano dei piccoli geni parlando di dislessia di disturbi specifici di apprendimento le parole stesse vanno a definire delle difficoltà specifiche a carico del singolo ragazzo intanto iniziamo a parlare di caratteristiche specifiche di apprendimento questo già ci aiuta a capire che certo possono esserci alcune difficoltà relative alla lettura alla scrittura alla memorizzazione che possono essere chiaramente individuate oggettivamente anche dal personale sanitario ma soprattutto dobbiamo parlare di contesti che cambiano perciò contesti scolastici di apprendimento anche sociali più accoglienti che tengano conto che tutti i ragazzi hanno dei talenti nascosti che magari li fanno vivere un po' tra le nuvole e perché appunto dietro c'è un pensiero una sensibilità delle potenzialità che però vengono nascoste da contesti meno accoglienti perciò puntare su delle modalità di lettura scrittura magari più demotivanti poco agganciati al contesto reale e che vanno a insistere su alcune difficoltà non tirano fuori il meglio da questi ragazzi questa esperienza non può che essere l'esempio concreto di come si possa realizzare una didattica davvero inclusiva come da tradizione torna all'appuntamento con Scarpatetti Arte la manifestazione artistica che si svolge nell'omonima e suggestiva contrada di Sondrio che quest'anno si terrà sabato 16 e domenica 17 luglio un evento amato e seguito dai cittadini e non che riconferma i suoi pilastri oltre alla location primo fra tutti il concorso grazie al quale i vincitori riceveranno un premio monetario 800 euro al primo classificato 500 al secondo 300 al terzo e la possibilità di esporre con una personale nel corso della edizione successiva presso le sale del Museo Valtellinese di Storia e Arte e poi tanta arte cultura musica spettacoli per bambini e una degustazione al buio con la collaborazione dell'Unione Ciechi presso le cantine Marsetti ma non mancano le novità dalla locandina redatta da una delle studentesse del liceo artistico Nervi Ferrari di Morbenio Giulia Germani al gemellaggio con Ambria Jets da una parte infatti verrà allestita a Scarpatetti Arte un'esposizione di fotografie che illustrerà tutta la storia di Ambria Jets mentre uno dei vincitori di Scarpatetti Arte porterà una sua opera al concerto che si terrà sabato 16 luglio presso l'area ed il BIM Siamo in chiusura prima di passare allo sport vi ricordo il sito radiotsn.tv facebook twitter e youtube e non dimenticate l'app per avere tutte le informazioni su Valtellina e Valchiavenna a portata di smartphone mi fermo qui grazie per essere stati con noi al prossimo appuntamento con l'informazione Buonasera amici sportivi vi ritrovate con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica questa sera apriamo con la canoa è tempo di bilanci per il canoista Giorgio Dall'Agostino è tempo di bilanci per il canoista valtellinese Giorgio Dall'Agostino il portacolori del gruppo sportivo forestale è testimonia del marchio Valtellina ha da poco fatto rientro dall'ultima tappa di Coppa del Mondo svolta poi in Francia appuntamento conclusivo dal circuito internazionale in cui Giorgio ha colto il nono posto nella finale sprint l'ultima prova è andata come previsto era una prova molto difficile perché il tratto era veramente tecnico il canale artificiale non ha deluso era un canale decisamente tecnico e selettivo per tutti sul quale bisognava fare molte ore di lavoro mancano ancora tante ore di lavoro per riuscire a fare delle manche perfette che saranno richieste poi al mondiale però come Coppa del Mondo è andata molto bene Tirando le somme per Giorgio è stata una stagione non facilissima con problemi di salute e un po' di sfortuna ma per lui è arrivato comunque un'incredibile medaglia di bronzo nella classifica di Coppa del Mondo generale assoluta una bella soddisfazione che risolleva il morale e salva la stagione inaspettato questo terzo posto mi sono ritrovato infatti quando ho visto poi la classifica generale evidentemente i risultati sono stati piuttosto costanti il più inaspettato è stata anche la medaglia in seconda prova nella prima prova di Coppa del Mondo in Slovenia che appunto ho preso l'argento nella gara lunga che non mi aspettavo e come Coppa del Mondo quindi posso essere soddisfatto anche perché arrivare terzo tra i big può andar bene adesso mancano le ultime due gare di campionato italiano che saranno all'inizio di luglio in Val di Sole all'inizio di agosto in Val d'Aosta e anche per lì vedremo di fare il meglio quindi ora gli ultimi sforzi prima di concentrarsi già per la prossima annata sto già adesso sto già focalizzando quasi l'attenzione alla prossima stagione cercando di riuscire a fare meglio e sperando che la fortuna e la salute l'anno prossimo siano un po' più dalla mia parte dopo la Gran Fondo Stelvio Santini le strade della Valterlina saranno nuovamente in base dagli amanti del ciclismo domenica prende via la Campionissimo la gara ciclistica che con i suoi tre percorsi da 85, 155 e 175 km per un dislivello di 1850 a 3600 a 4500 metri affronta le mitiche salite dell'Aprica a Gavia a Mortirolo e Santa Cristina le iscrizioni sono state fermate a quota 2000 per quanto riguarda il traffico i tratti stradali da Aprica a Edolo dal km 17 dalle ore 6.45 alle ore 8.30 sarà bloccato così come per quanto riguarda il tratto che conduce da Santa Caterina a Valfurva al passo da Gavia a Santa Pollonia dal km 34 dalle 8 alle 12 mazzo passo Mortirolo Trevigno a Pian di Gembra a Prica dal km 38 dalle ore 8 alle ore 18 ed infine il tratto monno passo Mortirolo dal km 12 dalle 8 fino alle 10 ed ora invece passiamo al rally Marco Giannisina ha ottenuto un altro po' di classe andando ad arricchire ulteriormente il suo personale score stagionale affiancato per la prima volta dal conterraneo Nicola Maxenti in la lista valterinese è stato ancora una volta ottimo interprete nella classe N3 portando in gara la performante del No Clio RS light curata dalla Top Rally in occasione del rally delle Valle Ossolane disputatosi nel weekend appena trascorso vincitore di due prove speciali ed equipaggio sondriese ha tenuto testa ai numerosi avversari che per aggiudicarsi lo sciatto di classe sono arrivati anche da fuori provincia regione in classifica generale Giannisina e Maxenti hanno concluso un 25esimo a posizione assoluta e con questo si conclude il nostro notiziario vi auguro buona serata e sentite il giorno con la mia amica support tv con la mia amica support tv www.com.info.edu